25 anni di Forza Italia, l'onorevole Deborah Bergamini a Montignoso per celebrare questo traguardo. Fossa Combratta arriva al piano di messa in sicurezza, dal parco delle Appuane esulta Legambiente. Emergenza Mianto, Cava Fornace ha la soluzione più sicura per bonificare secondo Confartigianato. Arrestato un clandestino dalla polizia di Massa Carrara, era stato espulso dall'Italia nel 2018. Australian Open, impresa storica di Lorenzo Musetti, il tenista carrarese vince la finale Under 18 a Melbourne. Tanti eventi dedicati al giorno della memoria alla scuola Paolo Ferrari di Marina di Massa. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati all'ultimo appuntamento per questa settimana con l'informazione curata da Antenna 3. Forza Italia festeggia i primi 25 anni dalla Fondazione. Oggi ripartiamo con una politica di concretezza, ha commentato l'onorevole Deborah Bergamini per l'occasione presente a Montignoso. Sentiamo. Forza Italia celebra 25 anni dalla propria Fondazione e soprattutto si presenta con una nuova azione politica. Quale sarà appunto questa nuova veste? Sì, è giusto. Oggi, 26 gennaio, Forza Italia compie i suoi primi 25 anni. Abbiamo voluto organizzare una mobilitazione nazionale in tutti i comuni e dunque qui anche a Montignoso per testimoniare 25 anni di una storia di democrazia, di libertà, di salvaguardia dei principi liberali di cui siamo molto orgogliosi e che per noi significa anche una ripartenza. Infatti ci proiettiamo nei prossimi 25 anni. Vogliamo tornare e dare il nostro contributo a una politica in cui non sia l'incompetenza a essere una virtù, ma il mantenere le promesse. E noi che abbiamo promesso di creare posti di lavoro, che abbiamo promesso di abbassare le tasse. Lo abbiamo fatto e i dati parlano chiaro. Non ci piace il modo di fare politica oggi imperante, che invece è basato su promesse che non sono realizzabili. Lo voglio dire in particolare rispetto alla legge di bilancio, alla manovra che è stata approvata dalle Camere, che è fatta soltanto per portare indietro il Paese. Il Paese è in recessione e con questa manovra rischia addirittura una retrocessione. Ecco, combattiamo tutto questo, vogliamo il ritorno ad una politica in cui gli impegni che si prendono sono realistici e possono essere mantenuti. La nostra giornata oggi vuole testimoniare questo. Una ripartenza di Forza Italia. Tra poco ci sono le elezioni europee. Nel mese di maggio Silvio Berlusconi con la consueta generosità e col consueto slancio ha voluto guidare questa battaglia di libertà e di qualità della politica. Lui si candiderà in tutte le circoscrizioni e Forza Italia naturalmente sarà a sostegno della corsa del nostro Presidente. E proprio in merito all'europeo e al fatto che Berlusconi abbia deciso di ripresentarsi, quali risultati vi aspettate? Tradizionalmente la corsa elettorale guidata da Silvio Berlusconi è una corsa che porta un importante incremento di consenso a Forza Italia. Accadrà anche in questa occasione. Forza Italia negli ultimi anni ha perso un po' di consenso, ma non ha perso la voglia di rappresentare l'Italia migliore, quella concreta, quella del buonsenso, quella che vuole costruire. E sono convinta che saranno molti i punti percentuali in più, perché questa non è soltanto una corsa di generosità del Presidente Berlusconi, ma è anche un riscatto dopo tanti anni di ingiustizia e di estromissione dalla vita politica e di condanne mediatiche. E questo riscatto vogliamo ognuno di noi intestarcelo e portarlo orgogliosi sul nostro petto. Il consigliere comunale Sergio Bordigoni ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale di Massa che nei giorni scorsi lo aveva dichiarato ineleggibile sostituendolo con la prima dei non eletti della lista, Roberta Dei. Alle 22.25 di mercoledì sera è stato depositato il ricorso per via telematica alla Corte d'Appello, che ora dovrà riprendere in mano gli atti per confermare o smentire quanto disposto in primo grado, ossia che Bordigoni non si sarebbe dimesso in tempo dal suo ruolo nel Consiglio di Amministrazione di EVAM, società partecipata dal Comune di Massa, per poter poi essere inserito come candidato nella lista elettorale di Forza Italia alle amministrative di giugno. Di fatto la presentazione dell'appello dovrebbe fermare l'immediata esecutività della sentenza di primo grado e Bordigoni è pronto a tornare a ricoprire il proprio ruolo, sia in Consiglio, sia come Presidente della Commissione Ambiente. No al piano di messa in sicurezza per Fossa Combratta, per lega ambiente una vittoria, ma anche preoccupazione per l'appoggio al progetto del Comune e dell'Asl. Ce ne parla Benedetta Bianchi. Esulta lega ambiente per il no del Parco delle Alpi Apuane al progetto presentato per Fossa Combratta, l'azienda, dovendo mettere in sicurezza la cava autorizzata per soli 1.370 metri cubi, aveva presentato come intervento di rimozione di un ammasso instabile il progetto di una cava di 58.000 metri cubi, misura, secondo gli ambientalisti, sproporzionata alle reali necessità. Per lega ambiente nel progetto era stato messo uno studio di stabilità e la relazione paesaggistica eludeva i requisiti richiesti dal PIT. Assieme alla soddisfazione, però, l'associazione esprime preoccupazione. Aspetto più sconcertante della vicenda, commenta, non è l'iniziativa imprenditoriale improntata alla massimizzazione dei profitti, quanto il sostegno venuto da parte del Comune e dalla Asl, che hanno determinato un pronunciamento non unanime. La vicenda della cava Fossa Combratta lascia la mare in bocca, continua lega ambiente, e crea un precedente pericoloso. Se finora si è sempre riconosciuta la priorità della sicurezza, da ora in poi i progetti di messa in sicurezza saranno gravati del sospetto di un loro uso strumentale. L'associazione ambientalista conclude, è evidente che appellarsi a ragioni di sicurezza per motivare un'ingente escavazione e poi lasciare il mutato il pericolo è una proposta illogica che mina la credibilità delle istituzioni e ne svela la scarsa considerazione che ha dell'intelligenza del cittadino. Emergenza a Mianto, migliaia di tonnellate da bonificare, Cava Fornace è possibile, soluzione secondo il presidente di Confartigianato Massacarrara, Sergio Chiriconi. Sentiamo. Oggi dobbiamo affrontare un'emergenza a Mianto reale e attuale. Bisogna lavorare sulla bonifica e messa in sicurezza e per farlo abbiamo bisogno di una discarica attiva, certificata e controllata, come quella di Cava Fornace. Questa in sintesi la conclusione del presidente di Confartigianato Massacarrara, Sergio Chiriconi, intervenuto giovedì mattina al convegno organizzato da Programma Ambiente Appuane, proprio sulla discarica di Montignoso, per fare il punto su Cava Fornace, il suo ruolo nel ciclo dei rifiuti e l'impatto sul territorio. Il presidente di Confartigianato, numeri alla mano, ha tracciato una linea chiara che non chiude le porte a soluzioni alternative alla discarica per lo smaltimento dell'amianto, ma che al tempo stesso chiarisce come al momento non esistano altre soluzioni attuali e concrete. Anche perché, ha chiarito Chiriconi, Cava Fornace accoglie solo amianto e matrice compatta, quello che deriva dall'edilizia come tetti, tubi o vasche e non quello più friabile e ancora più pericoloso, materiale che in edilizia è stato utilizzato ovunque e lì si trova ancora. In Toscana la prima parziale indagine sulle mappature delle bonifiche risale a 2017 con Arpat e Lamma, solo per i tetti di grandi dimensioni industriali. Si parla di oltre 1.500 ettari di lastre in cemento amianto su un totale di poco superiore a 8.000 coperture, senza considerare case, pollaio, tubature. Si tratta di oltre 247.000 tonnellate di rifiuti contenenti amianto in Toscana, in particolare 66 ettari a massa Carrara, ha fatto sapere il presidente di Confartigianato. A oggi l'unico smaltimento possibile è in discarica, ha ribadito Chiriconi. Noi siamo favorevoli ad alternative come un inertizzatore, ma lo stesso Ministero dell'Ambiente ammette che al momento non ci sono impianti simili in Italia e anche quelli all'estero sono stati realizzati in via sperimentale. Intanto però, continua Chiriconi, smaltire il cemento amianto in discarica seguendo le procedure previste dalla legge offrirebbe garanzie quasi assolute di sicurezza. Le discariche iniziano però a scarseggiare e crearne di nuove è quasi impossibile e richiede comunque molti anni. Per questo, conclude Chiriconi, al momento la soluzione più sicura per tutti è smaltirlo in discariche sicure e controllate secondo le norme di legge come a Cava Fornace. Incontro positivo, adesso aspettiamo il progetto d'Arpat per un confronto con tutti i comuni interessati dal problema. Sono le parole dell'assessore Massimo Poggi di Montignoso dopo l'incontro avvenuto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana sul problema cattivi odori che interessa l'area del lago di Porta. Il percorso, iniziato a settembre scorso proprio su iniziativa del comune di Montignoso con Arpat, a seguito delle segnalazioni ricevute dalle famiglie che abitano nella zona adiacente al lago, sarà composto da uno studio tecnico effettuato dall'Agenzia regionale e da una raccolta dati che verrà inviata sotto forma di questionario direttamente alle famiglie coinvolte. Lo studio probabilmente avrà una durata biennale e presto verrà installata una centralina meteo nella zona della cittadella dello sport e verranno effettuate alcune preanalisi sull'area e sulle acque del lago. Ovviamente le attività di monitoraggio degli odori non riguarderanno soltanto quest'area ma anche le zone limitrofe come il depuratore di Forte dei Marmi e la Fossa Fiorentina. Arrestato un cittadino straniero per ingresso illegale nel territorio dello Stato. Ascoltiamo la cronaca. Nei giorni scorsi gli uomini della squadra volante della questura di Massacarrara hanno arrestato un cittadino straniero colpito da espulsione e entrato irregolarmente nel territorio italiano prima del decorso dei termini previsti dal provvedimento stesso. Un arresto che segue a specifici servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Massacarrara e finalizzati alla prevenzione di tali fattispecie delittuose e dal rintraccio di cittadini stranieri non in regola con la normativa sul soggiorno in Italia. Durante i controlli che si sono svolti con l'ausilio dell'unità cinofila della Guardia di Finanza i poliziotti sono riusciti a rintracciare all'interno di un immobile abbandonato due cittadini stranieri irregolari di origine nordafricana. Non avendo alcun documento idoneo a provare l'identità ed attestare la regolare permanenza in territorio italiano, i due malcapitati sono stati quindi accompagnati negli uffici della questura per gli accertamenti di rito e per essere sottoposti ai rilievi foto dattiloscopici. All'esito delle operazioni, uno di essi, già destinatario della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massacarrara, è stato segnalato alla competente autorità giudiziaria. È andata peggio al secondo straniero. Infatti, dagli accertamenti esperiti nella banca dati, è emerso a suo carico un provvedimento di espulsione adottato nel 2018 dal prefetto di Milano ed eseguito mediante accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Milano-Malpensa, con divieto di ritorno in Italia per un periodo di cinque anni. Per tale ragione, gli operatori hanno proceduto all'arresto obbligatorio come disposto dalla normativa sugli stranieri. Il GIP ha convalidato l'arresto, disponendo anche per lui la misura del divieto di dimora nel territorio di questa provincia. E continuiamo con la cronaca. Un 35enne era finito agli arresti domiciliari a Carrara i primi di dicembre in forza di un provvedimento del GIP di Genova e messo a suo carico per reati in materia di stupefacenti. Oltre all'obbligo di rimanere in casa, il giudice gli aveva imposto anche l'assoluto divieto di allacciare comunicazioni telefoniche con chiunque, oppure di incontrare altre persone non appartenenti al proprio nucleo familiare. I carabinieri di Carrara, però, durante i ripetuti controlli a casa sua, lo avevano pizzicato più volte in compagnia di personaggi dalla fedina penale non proprio immacolata. Non a caso, anche il giorno del tentato omicidio, avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo dove il 35enne stava espiando domiciliari. I militari dell'arma avevano subito sospettato che due magrebini protagonisti del fatto di sangue potessero avere un collegamento con il loro connazionale domiciliari. Per questo motivo i carabinieri sono tornati a casa dell'arrestato domiciliare ed hanno scoperto che l'uomo aveva per l'ennesima volta accolto altre persone in casa. Inoltre aveva in uso un telefonino. Curiosando nella memoria delle ultime chiamate, i militari hanno accertato che l'autore del tentato omicidio era praticamente un abitue di quell'abitazione, quindi hanno informato il GIP di Genova con una dettagliata informativa. È scattata per lui la revoca dei domiciliari ed il contestuale ordine di riportarlo in carcere e sono stati i carabinieri della stazione di Avenza a condurlo in carcere qualche giorno fa. I carabinieri della stazione di Fossola nei giorni scorsi hanno eseguito un ordine di carcerazione disposto dall'ufficio di sorveglianza di massa a carico di un 59enne abitante a Carrara che dovrà scontare una pena residua di 5 anni di carcere inflitta al Tribunale di Lucca e poi confermata a dicembre dello scorso anno dalla Corte di Appello di Firenze. L'uomo è stato condannato perché in passato aveva raggirato più persone per indurle ad aprire conti correnti bancari poi utilizzati per emettere assegni a vuoto. Dopo aver ascoltato una parte della pena con una misura alternativa a quella detentiva il magistrato di sorveglianza ha ordinato ai carabinieri di portarlo in carcere. Domani domenica è previsto un peggioramento con piogge sulle aree nord-occidentali della Toscana in estensione al resto della regione in serata. Previsti venti di ribeccio e mare mosso o agitato. Possibilità anche di locali temporali. La regione toscana ha pertanto emesso un codice giallo per mareggiate. Sono possibili localizzati temporanei problemi e tratti stradali a ridosso della battigia con localizzate interruzioni della viabilità, problemi agli stabilimenti balneari e all'attività marittime dalla navigazione. Australian Open. Il sedicenne Lorenzo Busetti di Carrara fa la storia. È il primo giocatore azzurro a vincere il torneo di Melbourne dedicato agli under 18. Sentiamo. Un sabato davvero memorabile per il tennis italiano. Il sedicenne Lorenzo Busetti ha vinto l'Australian Open Junior il torneo dedicato agli under 18. È il primo giocatore azzurro nella storia a vincere a Melbourne. Classe 2002 di Carrara. Abbattuto in finale lo statunitense emiglionava al termine di un match molto combattuto e terminato con il punteggio di 4-6-6-2-7-6. Numero 4 del mondo nella categoria giovani. Busetti ha vinto la finale in 2 ore e 7 minuti di gioco annullando un match point nell'infinito e tiratissimo tie break che ha deciso la sfida. Grande la gioia e l'entusiasmo per una vittoria che è entrata nella storia del tennis. Ringrazio il mio team. È un grande onore essere qui. Il mio preparatore atletico ha fatto un lavoro straordinario. Devo fare complimenti a Nava che ha fatto una grande partita, ha commentato Musetti a fine gara. Ho lavorato duramente per uscire in questo risultato, ci speravo. Musetti, già finalista agli US Open giovanili, uno dei talenti più promettenti del tennis azzurro, è il primo italiano a riuscire nell'impresa. Fabiano nel 2007 e Baldi nel 2013 erano riusciti ad arrivare in semifinale senza però andare oltre. La finale dello scorso anno a New York era stata una sorpresa e tutto sommato in pochi si aspettavano che potessi vincere. Stavolta invece era diverso. Abbiamo lavorato duramente per arrivare qui e abbiamo ottenuto ciò che speravamo, ha concluso il giovane tennista Apuano. Per l'Italia è la diciassettesima finale in uno slam junior e l'undicesimo titolo assoluto. Prima di Lorenzo, l'ultimo azzurrino a vincere uno slam era stato Gianluigi Quincy che trionfò nel 2013 a Wimbledon. Ed è stato inaugurato al primo piano del NOA il baby parking, una sorta di asilo senza vincoli di orari aperto soprattutto ai dipendenti del NOA ma anche ad esterni. Presenta anche il vice sindaco Guido Mottini. Le famiglie potranno accompagnare i bambini da sei mesi fino ai sei anni a qualunque ora e riprenderli quando ne hanno necessità con un orario che va dalle 7.30 alle 18.30. Il servizio partirà ufficialmente lunedì. Potranno essere accolti contemporaneamente 25 bambini. A gestire la struttura sarà Elaria Marchini, maestra di asilo e tecnico dei servizi sociali, assieme alle figlie Arianna e Letizia Manfredi. Al baby parking i bambini possono restare da un minimo di un'ora fino all'intera giornata. Sono previsti pacchetti orari di 20, 30 o 40 ore mensili e non c'è una cucina. I genitori potranno fornire il pasto alle responsabili oppure appoggiarsi alla mensa del NOA. Saranno attivati i laboratori di pittura, psicomotricità, musicoterapia. Rino Maestrini effettuerà il baby taxi. Nelle fasce orarie di entrata e uscita potrà andare a prendere il bambino a casa o riportarlo. Ci fermiamo adesso per un po' di pubblicità. A tra poco. Amore, ci sono mille cose da fare prima della festa per Zia Pina e tu sei sempre lì con quel tablet. Piante da sistemare, muri da tinteggiare, la parabola da montare. Già fatto. E come? Noleggiando tutta l'attrezzatura da Italnolo. Resta solo la festa. Fatto anche questo. Ora manca solo Zia Pina. L'hanno già noleggiato. Tutti possono rivolgersi a Italnolo. Matteo Moda e Carlo e Raffaella. Dove lo stile e la raffinatezza si incontrano per vestire ogni tua giornata. Carlo e Raffaella per il tempo libero, con una vasta scelta di marchi quali Jeans Levis, Rifle, Giubbotteria, Canadiens e Dukers, Luigi Morini, Navigare e Capi in Pelle Milestone. Matteo Moda, invece, offre quel particolare ricercato per ogni occasione. Per lui abiti uomo lebole e camiceria cassera. E per lei la raffinatezza del Total Look Corte dei Gonzaga, adatto anche a tagli più. Carlo e Raffaella e Matteo Moda. Invia Carducci 119 a massa. La veranda sul mare. Sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena, a disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa, con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del Bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 2774 La scuola media Paolo Ferrari di Marina di Massa organizza una mattinata di eventi dedicati al giorno della memoria. Canti, letture, coreografie e proiezioni realizzati dagli alunni della terza C per una profonda riflessione sulla Shoah e l'Olocausto. Il servizio di Laura Salvatore. Per non dimenticare, è questo il titolo della manifestazione organizzata dalla scuola media Paolo Ferrari di Marina di Massa per la celebrazione del giorno della memoria, la ricorrenza internazionale tesa a commemorare le vittime dell'Olocausto nella data in cui, 27 gennaio del 45, le truppe dell'Armata Rossa abbatterono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Per permettere di conservare nel futuro dell'Italia la memoria dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, nel 2000, con una legge dello Stato, sono state disegnate le finalità e le celebrazioni del giorno della memoria, prevedendo in modo particolare una serie di iniziative e di eventi nelle scuole italiane. Recependo questi principi fondati sullo studio di quanto storicamente è accaduto, la media Paolo Ferrari ha organizzato una manifestazione per lunedì 28 gennaio nell'auditorium scolastico di via Casamicciola, che rappresenta il prodotto della riflessione sull'Olocausto e sulla Shoah che i docenti hanno stimolato costruttivamente con gli alunni della classe terza C e che prevede la proiezione di diapositive e di illustrazioni realizzate dagli allievi, la lettura di brani e poesie intervallati a canti e la coreografia a omaggio al film vincitore di tre premie Oscar di Roberto Benigni, La vita è bella. Titolo che cita la frase di Lev Stroski La vita è bella, possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore. La collaborazione dei docenti Giacopello, Barattini, Grand Jacques, Giorgini, Morelli, Cuccaro, De Marco e Palermo sotto la direzione didattica della dottoressa Alessandra Valsega prevede anche la partecipazione del coro scolastico Clauda Aglielmi che eseguirà una serie di brani della tradizione ebraica israeliana per poi chiudere la manifestazione per non dimenticare con il pezzo Beautiful That Way tratto dallo struggente tema musicale del premio Oscar Nicola Piovani. La manifestazione, dedicata agli alunni della scuola si svolgerà su due rappresentazioni per condividere intimamente il messaggio di Primo Levi tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo. L'associazione culturale Sancio Pancia comunica che in occasione del giorno della memoria domenica 27 gennaio il rifugio antiaereo della Mortana a massa sarà aperto dalle 16 alle 19 con lettura d'alta voce dedicate al tema dell'olocausto e curate da LAV di Carrara. L'ingresso è gratuito e per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a sanciop.ms.gmail.com oppure scrivere un messaggio al numero 348-5412-206. Le Math Girl del Marconi di Carrara per il terzo anno di fila si sono qualificate per la finale nazionale delle Olimpiadi di Matematica a squadre femminili classificandosi quinte. Giorgia Abbenassi, Cecilia Tromboni, Marina Donati, Asia Innocenti, Arianna Dominichelli, Sofia Tonazzini ed Elisa Sabadini accompagnate in qualità di riserve da Olga Massa e Tiziana Vulpe hanno gareggiato contro altre 74 squadre ed hanno risolto 24 difficili problemi di matematica in due ore. Le ragazze del Marconi sono state le uniche della provincia quana a presentarsi ai nastri di partenza. La finale si terrà a maggio. Una vita passata dietro la macchina fotografica. La notizia della scomparsa di Antonio Cozza ieri a 68 anni ha suscitato sconcerto e cordoglio in molti. Sin dagli anni 70 Cozza ha sviluppato la passione per la fotografia, una passione che nel tempo è diventata anche la sua principale attività lavorativa. Con due soci aveva aperto la programma immagini in via degli artigiani dove si occupava di fotografie per le industrie. Negli anni si era specializzato anche nelle foto a dipinti e sculture iniziando collaborazioni con numerosi artisti sia della zona che stranieri. Le sue foto sono state anche pubblicate in numerosi libri legati alla storia della città come quello di Massimo Bertozzi. Una rivista specializzata sul mondo dell'arte gli aveva dedicato un ampio servizio di quattro pagine. Fra i suoi lavori anche alcune elaborazioni fotografiche di particolare effetto come quelle fatte fondendo fra loro immagini attuali con altre di epoche passate. E proprio con alcune di queste aveva realizzato una mostra in biblioteca. Antonio Cozza lascia la moglie Daria e il figlio Lapo. Ovviamente alla famiglia ha tutte le condoglianze da parte di Suttantena 3. Il servizio televisivo dedicato all'evento di beneficenza in volo senza barriere che riguarda la provincia appuana all'interno della trasmissione la prima volta di Cristina Parodi andrà in onda in una delle prossime domeniche diversamente da quanto annunciato dalla produzione RAI. La manifestazione in volo senza barriere è stata organizzata dall'Aeroclub della Misericordia, dall'Avo, dall'Ambi con la collaborazione della giornalista Sara Lavorini. Ed ora invece vediamo insieme chi sono i festeggiati. L'azienda Gaia comunica che lunedì 28 gennaio saranno effettuati i lavori sulla rete principale dell'acquedotto di massa. Quindi dalle 9 alle 12 e sino al termine dei lavori verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile in via del Santo a massa. Al ripristino del servizio potrà verificarsi torbidità che scomparirà lasciando a scorrere l'acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. Il CONI provinciale di Massa Carrara cambia sede e si sposta nella nuovissima postazione di Viale Galileo Galilei al numero 133 a Marina di Carrara grazie ad un accordo con la internazionale Marmi e Macchine. Una scelta effettuata a seguito del grande lavoro di ammodernamento effettuato sul capannone B e che lo ha reso adatto ad un uso prettamente sportivo. La nuova struttura sarà capace di ospitare eventi sportivi di rilievo nazionale e probabilmente anche oltre. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto quindi il nostro telegiornale termina qui. Come tutti i weekend vi lascio in compagnia di Paolo Lunini e della rubrica dall'interamente curata Meteo Weekend per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia e a vederci a tutti. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con il meteo. Una settimana tipicamente invernale, quella appena trascorsa con l'arrivo da prima del freddo e poi dell'annunciata neve a bassa quota soprattutto mercoledì quando una spolverata ha imbiancato anche il versante marittimo delle Apuane fin verso i 6-700 metri e in maniera un po' più copiosa la Lunigiana e l'Appennino a partire dai 3-400 metri. Poi in montagna, in quota, l'accumulo non è particolarmente abbondante comunque si misurano circa 10 cm di neve fresca sulle Apuane a 1.300 metri e fino a 20-25 alla stessa quota in Appennino tanto che durante questo fine settimana avremo finalmente l'apertura a pieno regime di tutti gli impianti sciistici del comprensorio appenninico. Neve infatti favorita nella sua conservazione dalle temperature che si mantengono basse anche in queste ore nonostante il deciso miglioramento con cieli sereni. Miglioramento generale delle condizioni meteo che è stato favorito lo vediamo bene dal nostro quadro sinottico dall'allontanamento verso Levante della perturbazione lo vedete qua adesso sulla Grecia che tra mercoledì e giovedì aveva determinato quelle nevicate fino a bassa quota su molte regioni del centro nord Italia adesso vi è una temporanea rimonta dell'alta pressione lo vedete sul Mediterraneo centro-occidentale con l'afflusso di aria fredda ma più secca da nord-est sotto forma di venti di tramontana che hanno soffiato a tratti anche forti nelle scorse ore è un miglioramento però temporaneo infatti vediamo dalla nostra mappa che sul nord-atlantico è attiva una nuova area di bassa pressione decisamente profonda ebbene questa area depressionaria nella giornata di domenica si porterà nuovamente sul Mediterraneo e determinerà un temporaneo peggioramento delle condizioni anche sulla nostra penisola, sulle nostre zone proprio fra domenica e le prime ore di lunedì comunque per tutti i dettagli ora andremo a vedere il tempo previsto ed eccoci alla previsione per domenica giornata che vedrà un rapido inspessimento della nuvolosità fin dalle prime ore del mattino fino ad avere un cielo molto nuvoloso coperto su tutta la provincia e già da metà a tarda mattinata potremo avere le prime piovigini deboli precipitazioni sparse a partire dal settore Appuano e dalla lunigiana occidentale al confine con la Liguria con quota neve inizialmente oltre i 1200-1300 metri poi nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad estendersi a tutte le zone della provincia e ad intensificarsi gradualmente in serata non è nemmeno da escludere qualche rovescio o breve temporale ancora una volta più probabile sulle Appuane entrerà anche dell'aria via via più fredda in quota quindi le nevicate caleranno fino a raggiungere i 1000-1100 metri verso sera soprattutto sull'Appennino a quote leggermente più elevate circa 1200 metri sul versante marittimo delle Appuane le temperature saranno in diminuzione nei valori diurni con massime difficilmente oltre i 10-11 gradi sulle zone pianeggianti e costiere i venti rinforzeranno sensibilmente di libeccio da sud-ovest con delle raffiche anche forti fra il pomeriggio e la serata soprattutto lungo la fascia costiera e con questi venti di libeccio anche il mare subirà un deciso aumento del motondoso fino a molto mosso, localmente agitato, verso sera nelle prime ore di lunedì avremo ancora una residua in instabilità quindi qualche breve rovescio sparso tendente comunque ad allontanarsi infatti faranno ingresso dei venti via via più secchi da nord e nord-ovest quindi venti di maestrale che entro il pomeriggio dovrebbero ripulire i cieli dalla nuvolosità quindi avremo delle ampie schiarite nella seconda parte della giornata e infatti martedì dovrebbe essere una giornata soleggiata un cielo sereno o poco nuvoloso grazie proprio a questi venti più secchi da nord ma anche via via più freddi infatti caleranno nuovamente le temperature specie da martedì fino a riportarsi leggermente al di sotto delle medie del periodo sarà probabilmente un miglioramento temporaneo quello di martedì infatti già a metà settimana è attesa una nuova perturbazione nord-atlantica dagli effetti ancora abbastanza incerti tuttavia ci attendiamo mercoledì un aumento delle nubi forse anche qualche precipitazione sparsa in pianura sotto forma di pioggia e nevosa in montagna indicativamente oltre gli 800-1000 metri comunque per tutti i dettagli vi consiglio di seguire gli aggiornamenti nei prossimi giorni disponibili al sito www.meteoapuani.it per quanto riguarda l'appuntamento con le previsioni ci fermiamo qua non mi rimane che augurarvi una buona serata e un buon fine settimana il meteo è stato presentato da Brico Center Massa il tuo vicino di fare via Marina Vecchia 5 ti aspettiamo per quanto riguarda il nostro corso